Grazie di cuore caro Raffaele, grazie a tutti voi, in bocca al lupo alla Ferrari, in bocca al lupo agli azionisti, a Gian Elkan, a Piero Ferrari, a tutto il mondo di questo straordinario marchio che non è un brand ma è una storia, passione, azienda. In bocca al lupo a Sergio Marchionne, grazie per aver accolto l'invito di quotare anche a Milano. Questo gesto sia stato un gesto molto bello, molto importante, credo che debba essere seguito anche da altre realtà, almeno questo è il mio auspicio, che sono quotate fuori dal nostro Paese e la quotazione in borsa deve diventare sempre di più un elemento di trasparenza, di forza, di presenza. Lo dico anche perché in questo momento la Borsa di Milano ha avuto dei risultati straordinari, vorrei farvi i complimenti, più 13,2% l'aumento del 2015, il miglior aumento delle borse occidentali. Penso anche che questo sia il momento nel quale l'Italia debba smettere di giocare con gli alibi. Anche in queste ultime settimane leggo in tanti che dicono che la vitalità del nostro Paese deriva da fattori esterni. Credo che fattori esterni è il nome che molti danno alla pigrizia, alla propria pigrizia, è un alibi spaventoso dietro al quale si nasconde che cosa? Il tentativo di giustificare le mancanze del passato. E invece a mio giudizio se guardiamo i dati di fatto, se guardiamo la realtà, l'Italia finalmente c'è, c'è in modo molto forte. I problemi della politica del 2015, quelli che a gennaio del 2015 erano nell'agenda della politica, non ci sono più. La politica deve fare molto anche nel 2016. Penso alle banche di credito cooperativo, alle società partecipate da ridurre, al diritto fallimentare che deve cambiare, alle autorizzazioni, alla semplificazione, all'agenda digitale. Abbiamo moltissimo da fare, ma con la consapevolezza che l'Italia c'è. Che l'Italia non deve aver paura del mondo. Io considero la quotazione di Ferrari questo messaggio a tutte e a tutti. Per anni abbiamo pensato che dovevamo stare chiusi, dovevamo aver paura dei mercati, del mondo, di ciò che ci girava intorno. E poi abbiamo scoperto che il nostro più grande alleato è la globalizzazione e che se scendiamo in pista, se ci mettiamo a correre, siamo i più bravi del mondo. Dobbiamo cambiare mentalità noi innanzitutto. Dobbiamo sapere che ci sono dei momenti in cui non si vince, quelli del passato naturalmente. Una grande scuderia, un grande marchio, una grande azienda sta anche a attraversare i momenti no. Un grande paese può anche attraversare i momenti in cui le cose non vanno. Ma poi si ha la forza, la capacità, l'intelligenza di capire che si può ripartire da quello che noi siamo, dall'identità della nostra bellezza, dall'identità della nostra forza. Allora, il Governo ha chiuso l'anno nel 2015 con l'inaugurazione della variante di Valico e con i lavori a Pompei, due opere su cui eravamo in ritardo e accelerando abbiamo iniziato a recuperare il ritardo. Io vorrei che il 2016, che inauguriamo simbolicamente qui a Milano con la Ferrari, fosse l'anno in cui smettiamo di recuperare i ritardi e iniziamo a anticipare il futuro. E iniziamo a correre più veloci degli altri. Da questo punto di vista, in bocca al lupo di cuore a chi investirà in Ferrari, in bocca al lupo di cuore a chi anima la Ferrari, con la straordinaria dedizione delle donne e degli uomini che da Maranello fanno meraviglie uniche al mondo, e in bocca al lupo anche a chi continua a credere che la pagina più bella del nostro paese sia ancora da scrivere. In bocca al lupo a tutti noi.